stoner john williams è un romanzo del 1965 dello scrittore statunitense john edward williams nato nel 1922 e deceduto nel marzo del 1994 williams romanziere e poeta americano vincitore di un national book award per la narrativa nel 1973 è il racconto della vita di un uomo tra gli anni 10 e gli anni 50 del novecento il protagonista si chiama williams toner e figlio di contadini e si affranca dal destino del lavoro nei campi diventando professore universitario l'incipit del testo ci fa una sintesi di quello che accade nel nel romanzo williams toner si iscrisse all'università del missouri nel 1910 all'età di 19 anni otto anni dopo al culmine della prima guerra mondiale gli fu conferito il dottorato in filosofia e ottenne un incarico presso la stessa università dove restò a insegnare fino alla sua morte nel 1956 non superò mai il grado di ricercatore e pochi studenti dopo aver frequentato i suoi corsi serbarono di lui un ricordo nitido grazie a tutti